signori buongiorno e bentornati sul canale del master kai io sono il master kai e il vostro ospite su questo canale ora che le basi del world building possiamo dire di averle gettate cominciamo a vedere altri aspetti sussidiari che servono per fare in modo che il vostro mondo diventi sempre più dettagliato e quindi più interessante per i giocatori e più utile per voi per ambientarci le quest che ci dovete ambientare è uno di questi aspetti accessori più importanti e più rilevanti per dare una patina di verosimiglianza a tutto il mondo è quello di fornire a quel mondo una sua storia qualcosa che sembra apparentemente molto facile ma che nella pratica è molto più difficile da far bene di quello che sembra nel video di questa settimana quindi andiamo a vedere perché è importante dare al mondo una sua storia e quali sono i principi o almeno alcuni dei principi a cui dovreste attenervi per fare in modo che questa storia risulti verosimile e quindi renda il mondo più interessante cominciamo dicendo qualcosa di ovvio ma che ci serve come punto di partenza per l'intera discussione il mondo deve avere una sua storia perché questo ne aumenta la verosimiglianza il nostro mondo ha una sua storia la studiamo a scuola la sentiamo nei documentari quello che ci accade oggi dipende da quello che è avvenuto in passato su questo canale trovate una rubrica che riguarda la storia del gioco di ruolo e la sua evoluzione e ogni gioco di ruolo a cui voi state giocando adesso in un modo o nell'altro deriva da un gioco o una filosofia di gioco precedente questo è un esempio minuscolo in quella che è la mole della storia dell'umanità sul pianeta terra ma è per farvi capire quanto non possa esistere un mondo senza che questo mondo sia come sia per via di eventi precedenti di conseguenza più è dettagliata la storia del vostro mondo più eventi sono ricordati e più la gente agisce in base a una quella viene definita una prospettiva storica cioè agisce cosciente del fatto che ci sono stati eventi precedenti e che quello che starà facendo adesso influencerà gli eventi più questo mondo sembrerà simile a quello reale quindi si aumenterà la verosimiglianza quindi sarà più facile per i giocatori immergervi all'interno della narrazione al di là di questo che è il motivo pratico il motivo meccanico diciamo c'è anche un motivo più creativo e artistico per cui come creare un mondo è un'attività intrinsecamente interessante c'è gente che si diverte molto a creare mondi fittizi anche creare storie fittizi è un'attività di intrattenimento sia per chi la fa sia anche per chi semplicemente da mero giocatore sente semplicemente raccontare il mondo molti giocatori sono sinceramente interessati a immergersi nella storia fantastica del mondo che stanno giocando e quindi più la storia del vostro mondo è bella e complessa e piena di colpi di scena più questi giocatori si sentiranno gratificati a giocarci quindi anche in questo caso un motivo in più per porre un minimo di attenzione su queste cose chiarito il perché la storia è importante adesso vediamo il come fare a rendere una storia più verosimile e migliore per la campagna quindi cosa fare quando cominciate ad approcciarvi alla storia del vostro mondo la prima cosa è ricordarvi che la storia è una serie continua di eventi in relazione tra di loro ovvio ma in realtà molto spesso anche in lavori professionali mettiamola così la storia del mondo diventa una serie di singoli eventi intervallati da anni e anni se non secoli in cui apparentemente non succede assolutamente nulla questo di per sé è veramente qualcosa di bizzarro ed è qualcosa che fa proprio sembrare finta la storia per quanto effettivamente anche nel mondo reale sembrano esserci anni in cui succedono un sacco di cose e anni in cui in realtà ne succedono molte meno non esiste nella nostra storia un periodo in cui effettivamente non sia successo nulla interessante gli eventi si susseguono e ogni evento dipende da un evento precedente e genera un evento successivo magari uno specifico filo narrativo nella storia potrebbe rimanere sospeso mettiamola così viene fatta una rivoluzione e viene instaurata una nuova famiglia reale nel regno poi quella famiglia reale regna per cento anni si susseguono vari re ma nessuno di questi è una persona particolarmente influente fino a quando non c'è una nuova rivoluzione che depone quella famiglia ne mette un'altra in quei cento anni in cui magari si sono susseguiti tre re che non hanno preso nessuna iniziativa storicamente così rilevante altre persone avranno fatto altre cose saranno avvenute delle innovazioni tecnologiche delle innovazioni magiche se questo è il vostro mondo è un fantasy altri regni avranno avuto altri eventi magari un regno subisce un'accelerazione un particolare sviluppo sociale o tecnologico mentre un altro subisce un periodo di decadenza e regressione indipendentemente da tutto questo l'impressione che devono avere i vostri giocatori è che la storia vada costantemente avanti un'altra cosa che molto spesso si vede e fondamentalmente questo è veramente inverosimile è che la storia antica del mondo sembra avere molto più potere e molta più rilevanza rispetto alla storia recente o la storia contemporanea anche questo nel nostro mondo non funziona così sicuramente ci sono molte persone che studiano la storia medievale studiano gli antichi romani poi poi l'età del bronzo quello che è ma nella vita di tutti i giorni noi siamo molto più influenzati da eventi storici estremamente recenti il nostro sistema politico dipende dal sistema politico avevamo dieci anni fa che a sua volta dipende da quello che avevamo dieci anni prima non siamo rimasti alla roma dei cesari e questo vale per tutte le cose magari le persone possono avere l'illusione che le cose rimangono fisse ma in realtà chiunque svolga una qualunque attività nel nostro mondo lo fa in una maniera molto diversa da come non si faceva cento anni fa e le decisioni storiche storicamente importante che vengono prese vengono prese in base a eventi contemporanei o eventi estremamente recenti quando le nazioni unite fanno una risoluzione non la fanno in base alla storia medievale ma la fanno in base alla politica attuale questo dovrebbe valere anche per il vostro mondo le persone gli stati i paesi gli eventi sono influenzati da quello che è successo relativamente recentemente può esserci una storia mitologica di quando mille anni fa le forze del bene combatterono l'estrema battaglia contro il signore del male ma quelli sono eventi successi mille anni fa la vita delle persone è influenzata dal fatto che cinque anni fa ce ne sono state una serie di schermaglie tra questo regno e il regno a fianco e magari ancora adesso ci sono dissapori da entrambe le fazioni e gli abitanti dei vari regni continuano a incolparsi a vicenda di atrocità di guerra non necessariamente le persone sono coscientemente influenzate da questa cosa però dovete prendere quando andate poi a scrivere le vostre linee narrative se ci sono delle giustificazioni storiche da inserire prendete come modello gli eventi storici più recenti non gli eventi storici mitologici tenete anche conto che difficilmente l'interpretazione degli eventi storici è univoca quindi anche la presenza di persone che vivono più a lungo non dà la certezza che la storia sia riportata nella maniera corretta semplicemente perché sia per le persone contemporanee a quel momento non necessariamente avevano tutte le informazioni per poter capire esattamente quello che stava succedendo sia perché la visione degli eventi è sempre interpretata attraverso a quella che è la filosofia dominante sia del singolo individuo sia del contesto in cui questo individuo si muove quando è arrivata la rivoluzione che ha detronizzato una famiglia reale per sostituirla con un'altra quelli che appoggiavano la famiglia reale precedente avranno interpretato gli eventi come una rivoluzione di anarchici che vuole solo portare la distruzione e che lo fanno per meri interessi personali e vogliono piegare le leggi con la violenza e magari dall'altra parte quelli che la rivoluzione l'hanno appoggiata la vedevano come un modo per ristabilire il vero ordine sociale mettere sul trono il legittimo erede e scacciare il tiranno e l'usurpatore e magari nella realtà nessuna di queste due cose è vera il re che è stato messo sul trono non era né migliore né peggiore né più legittimo di quello precedente e in entrambe le fazioni c'erano persone che erano lì per il mero interesse personale e persone che erano lì perché erano genuinamente convinte che quella era la cosa migliore da fare e successivamente questa interpretazione dei fatti che già all'epoca era parziale è stata resa ancora più complessa dal fatto che persone vissute in periodi storici differenti interpretano gli stessi fatti in maniera differente il re che è stato messo sul trono si è rivelato essere un incapace un tiranno che ha fatto fallire l'economia del regno cent'anni dopo la gente parlerà della rivoluzione in maniera totalmente negativa dicendo che quelli che l'avano appoggiata hanno tutti degli imbecilli che siano fatti abbindolare da questo tiranno se al contrario il nuovo re ha risanato l'economia e migliorate in qualche modo il tenore di vita del regno parleranno della rivoluzione come uno step assolutamente indispensabile verso un processo di modernizzazione del governo perché non si può fermare il progresso e le cose migliorano costantemente anche in questo caso le capacità del re magari non erano neanche prese in considerazione perché non era lui a prendere quelle decisioni in realtà il regno era retto dalla sua regina che era effettivamente una mente politica ma faceva da potere dietro il trono dicendo al marito quello che dovrà dire questo fatto però al di fuori della stretta cerchia della corte non lo sapeva nessuno quindi non è mai diventato parte della storia al di là di tutto persone diverse possono avere a priori visioni diverse su quello che sta succedendo quello che è successo e quindi anche un resoconto per quanto si cerchi di farlo in maniera più oggettiva verrà comunque plagiato dalla soggettività di chi quel racconto lo sta facendo diciamo che c'è un adagio famoso che dice che la storia la scrivono i vincitori e i vincitori cercheranno sempre di mettere se stessi in buona luce quindi anche la visione storica dominante potrebbe non essere quella corretta ma essere considerata corretta da tutti semplicemente perché è quella più diffusa e chiunque dica qualcosa di diverso potrebbe venire tacciato di averci un interesse personale ma è anche vero che esistono persone anche nel mondo reale che per un interesse personale cercano di distorcere gli eventi storici in modo da far apparire il proprio governo il proprio gruppo interesse in una luce migliore di quello che in realtà storicamente si è dimostrato tutto questo perché nella pratica la storia diventa man mano più sfumata man mano che ci sia lontana dall'evento storico preso in questione che cosa sia successo dieci anni fa è relativamente chiaro anche se come abbiamo detto persone diverse possono aver avuto impressioni diverse su quel momento storico di che cosa sia successo duemila o tremila anni fa noi possiamo avere solo delle vaghe nozioni questo ovviamente sia per motivi organici motivi pratici non c'è più nessuno vivo all'epoca che possa raccontare alla gente contemporanea ne avevamo già parlato quando parlavamo di specie non umane piuttosto vi lascio qui il link del video ma può anche darsi che nel vostro mondo ci siano effettivamente gli individui che sono vissuti più di mille anni bisogna vedere però quanti ce ne sono e questo non farebbe altro comunque che dilatare la scala temporale perché magari loro possono ricordare cose avvenute mille anni fa ma non ricordano cose avvenute dieci mila anni fa sicuramente sarebbe una società che una visione storica molto più profonda fino a un certo punto perché comunque gli individui potrebbero ricordare quello che loro hanno percepito di nuovo quello che abbiamo detto prima senza contare che a volte la nostra storia è molto diversa dall'impressione che noi abbiamo della stessa storia perché gli eventi sono stati nel corso del tempo in qualche modo distorti o manipolati questo molto spesso viene fatto per interessi politici interessi religiosi comunque i gruppi di potere all'interno della vostra ambientazione avranno un interesse nello spingere avanti una particolare interpretazione degli eventi storici che per qualche motivo mette loro in buona luce o comunque torna per loro vantaggiosa anche se magari non c'è alcuna relazione diretta tra un evento e l'altro il governo tirannico e totalitario potrebbe rifarsi a un'epoca ancestrale in cui loro erano il più grande impero del mondo e adesso devono ritornarlo anche se magari quest'epoca ancestrale non è mai avvenuta realmente o quegli eventi sono estremamente esagerati senza contare che potrebbero esserci degli eventi storici totalmente inventati ma che vengono dati come assolutamente assodati dalla maggior parte della popolazione e magari sarebbe anche difficile andare a trovare quali sono stati inventati e perché perché poi la propaganda di cento anni fa è entrata talmente nella conoscenza comune che adesso anche se quella propaganda non ha più scopo di esistere viene considerata come fatti assodati alla conoscenza di tutti se ne volete un esempio Napoleone non era affatto basso anzi per l'altezza media della sua epoca lui era qualche centimetro più alto degli altri oltre a questo ricordatevi che una storia che segua un filo perfettamente logico non è esattamente quella più verosimile anzi per quanto col senno di poi le cose possano sembrare diversamente non necessariamente la storia segue dei processi logici non necessariamente le decisioni che vengono prese sono sempre le migliori o le più adatte appunto perché possono essere influenzate da vari fattori anche se mentre scrivete la vostra storia il vostro mondo potrebbe sembrare logico che l'impero più potente tecnologicamente avanzato abbia conquistato tutti i suoi vicini nella storia questo non necessariamente è mai successo la l'impero più esteso che abbiamo avuto sulla sul nostro pianeta è stato quello mongolo conquistato da Gengis Khan che non era affatto un monolitico governo anzi si basava molto più sull'assafarismo e su un'imposizione virtuale del potere e si sono state rivoluzioni in cui letteralmente bande di poveracci sono riusciti a ribaltare la situazione contro eserciti addestrati organizzati quindi non partite dal presupposto che tutto quello che deve succedere nella vostra storia deve effettivamente avere senso a volte semplicemente le cose accadono o semplicemente le persone durante un determinato periodo storico hanno una tale idea del mondo per cui decisioni che a posteriori possono sembrare assolutamente prive di senso all'epoca potevano sembrare in realtà perfettamente legittime la colonia spaziale da cui arrivano i personaggi e i giocatori pone una grandissima enfasi sulla produzione di un particolare tipo di metallo di lo sviluppo di un particolare tipo di industria che adesso è diventato qualcosa di intrinseco nella cultura di quella colonia ma la cosa è iniziata quando cento anni fa la galassia in un luogo molto più turbolento e quell'industria era assolutamente prioritaria per le risorse militari della colonia adesso la galassia è molto più pacifica la tecnologia è anche avanzata per cui le applicazioni militari di quella determinata industria sono minori ma oramai quella è la tradizione planetaria e quindi la gente continua a fare quello molto orgogliosa di quanto sia la importante il loro sviluppo anche se magari avrebbe più senso cominciare a produrre qualcos'altro se volete un esempio reale tutti sanno che gli inglesi bevono il tè il tè è una pianta che non cresce in inghilterra arriva dall'est dell'asia letteralmente all'altra parte del mondo e originariamente era molto costosa da importare quindi una bevanda nobiliare che poter bere il tè era un simbolo di status adesso il tè ce lo possiamo permettere tutti perché non costa nulla ma in inghilterra la tradizione del tè comunque è ancora rispettata anche se adesso è una bevanda perfettamente popolare lo so che a dire tutto questo sembra che in realtà la storia non abbia un senso ovviamente non è vero ma partite dal presupposto che la storia non è mai qualcosa di oggettivo nel mondo reale e non dovrebbe esserlo neanche nel vostro mondo fittizio i giocatori girando per il mondo dovrebbero poter sentire gli stessi eventi storici raccontati ma in maniera diversa perché png diverse li stanno riportando gli eventi storici molto antichi dovrebbero essere raccontati come noi raccontiamo la mitologia non come noi raccontiamo la seconda guerra mondiale l'importante è che evitiate proprio di scadere in quelle situazioni in cui diecimila anni fa il signore del male ha fatto qualcosa e adesso sta tornando negli ultimi diecimila anni non solo la gente si ricorda perfettamente quello che è successo e sa esattamente dove trovare la spada magica per sconfiggerlo ma sembra che il mondo non sia mai andato avanti e sono passato diecimila anni in attesa di vedere questo signore del male cosa facesse cosa che se succedesse nel mondo reale noi francamente non sappiamo cosa è successo diecimila anni fa l'intera storia umana grossomodo è registrata da 7 8 mila anni si molti master hanno anche la tendenza a esagerare veramente tanto con le date comunque spero che questo video più che un come scrivere la vostra storia sia uno spunto di riflessione da cui partire per scrivere la storia del vostro mondo nel caso se avete domande dubbi perplessità come sempre scrivetela nei commenti qui sotto e scrivetemi anche come voi avete interpretato la vostra storia o come l'ha fatto il vostro master su quali siano secondo voi i punti su cui soffermarsi come sempre se il video vi è piaciuto lasciate un like e condividetelo che aiuta a crescere il canale iscrivetevi e schiacciate la campanella se volete ricevere le notifiche io sono il master il cane noi ci vediamo nel prossimo video